Insomma, qui per presentare una gran bella iniziativa, la Nazionale Attori si lega alla Lega Pro e nasce questa partnership che credo avrà diverse iniziative, diverse soprattutto partite anche di incontri. Sì, avrà diverse partite, diversi incontri, noi siamo orgogliosi di avere che la Lega Pro abbia pensato alla Nazionale Attori della quale io sono, do una mano, sono un po' irresponsabile, ma insomma così alla fine è sempre la beneficenza quella che la fa da padrona. Però è importante questa iniziativa perché si comincia ad andare un po' per le città dove apparentemente sono meno conosciute, ma poi dopo che a livello storico in Italia sono straordinarie e hanno una squadra di calcio che cerca di venire fuori sperando di incentivare anche il lavoro dei giovani perché poi questa è la cosa più importante. E quindi in base a tutto ciò la Nazionale Attori girerà per queste città dove ci sono squadre di Lega Pro, cercherà di fare la più beneficenza possibile e quindi cercheremo di dare anche noi un piccolo contributo alla Lega Pro che in questo momento ne ha bisogno, soprattutto non so se a livello economico, però a livello di sponsorizzazione per far sì che queste società crescano sia molto importante. Ecco, da passione di calcio come valuta questo campionato di Lega Pro? Si dice che l'unica difficoltà è che ci sono difficoltà finanziarie, però la competitività è sempre alta. No, la competitività è alta. Io ho visto tante partite di Lega Pro, ci sono tanti allenatori capaci, tanti allenatori bravi anche nel far giocare i giovani. Poi questa è una cosa che dovrebbe essere più incentivata secondo me perché in Italia c'è sempre il rischio di perdere il posto e quindi tanti allenatori spesso fanno giocare, vanno sull'usato sicuro mentre spesso molte volte non è così. Quindi far crescere i giovani, dargli a loro un addestramento importante, fargli capire quali sono le regole importanti anche per quanto riguarda la lealtà verso le altre squadre, verso i compagni e quindi devono crescere soprattutto in questo senso. Poi dopo se riusciranno anche ad avere qualità tecniche per far sì che crescendo possano essere importanti anche per le squadre superiori, questo sarà un miglioramento importante. C'è una qualità di portieri, chiedo soprattutto a Nandorsi, che del mestiere se ne intende italiani, magari giocano di più in Lega Pro perché in A e B ci sono più stranieri? Questo è anche un altro punto dolente, noi abbiamo sempre avuto una squadra di portieri italiana molto importante, però adesso sta cominciando a rivenire fuori. Adesso c'è più la tendenza anche in Serie A e in Serie B soprattutto a far giocare portieri abbastanza giovani, insomma l'abbiamo visto, ce ne sono tanti in Serie A, ce ne sono tanti in Serie B. Quindi bisogna ricominciare a investire sui nostri portieri e ritornare ad avere una scuola che era quella più importante a livello mondiale. E quindi anche in questo senso gli allenatori devono essere bravi a curare soprattutto la tecnica perché poi il portiere cresce, il portiere ha un ruolo specificamente tecnico. Quindi quando tu hai la tecnica importante riesci ad avere più possibilità di giocare e soprattutto gli allenatori che ti allenano hanno più la possibilità di sceglierti anche per giocare anche a campionati importanti. Perché noi non possiamo dimenticare che la Lega Pro non è un campionato soltanto di Serie C, ma è un campionato di Serie A perché deve formare certi giocatori e andare nelle categorie superiori. L'ultima cosa gliela chiedo inevitabilmente su una persona a cui lei è legata che è Roberto Mancini. Se lei ha fatto un'idea sulla situazione Inter, conviene separarsi visto che Mancini sembra avere mal di pancia o accontentare il tecnico Nerazzurri in qualche maniera, nonostante le difficoltà del passaggio societario dato IR ai cinesi? Ma insomma Mancini non si può sentire un allenatore traghettatore, quindi ha un anno di contratto e lui vorrebbe avere più poteri anche in seno a certe decisioni che in società vengono prese. È sempre stato così ma il suo curriculum parla per questo, quindi conoscendolo è uno anche abbastanza istintivo, nel senso che se vede che non gli sta bene la situazione può anche lasciare tutti e andare via. Non è una questione economica, è proprio una questione di poteri in seno a una società importante che sta crescendo come quella dell'Inter. Io penso che invece l'Inter dovrebbe investire soprattutto su Mancini perché secondo me è un allenatore fra i primi cinque al mondo, ha le idee chiare, sa quello che vuole, però bisogna vedere se va in contrasto con quelle che sono le decisioni della proprietà. Certo i cinesi stanno in Cina e Mancini sta in Italia, quindi ci vorrebbe qualcuno che facesse da tramite. Però insomma è indubbio che è una situazione particolare, io spero che possa risolversi perché l'Inter ha bisogno anche di crescere come squadra. Grazie. Prego. Grazie.